L'esordio al Palace Portestra porta in dote alla BC Servizi Arezzo i primi due punti in campionato al termine di una gara combattuta ed emozionante contro il CLS Quarrata. Parte deciso il quintetto di Fioravanti, gli ospiti però rimangono in scia e il primo quarto finisce con la sba avanti di una sola lunghezza 19 a 18. Nel secondo parziale la BC Servizi prova ad allungare prendendo 4 lunghezze di vantaggio prima di un break di 6 a 0 che porta Arezzo in doppia cifra di vantaggio. In un momento di difficoltà Quarrata ha il merito di riuscire a bloccare l'attacco a Maranto fino al 37.30 dell'intervallo. A rientro in campo Bischetti e Toia rilanciano ancora più 10 la BC Servizi ma i pistoiesi non demordono. I ragazzi di Coccia Fioravanti chiutano avanti 54 a 53 il terzo quarto. I dieci minuti finali sono un susseguirsi di emozioni. La BC Servizi si conquista con i denti 4 lunghezze di vantaggio che rimangono quelli decisivi per portarsi a casa un prezioso successo. I punti della luneta di Prenga e il canestro di Balducci a tre secondi dalla fine fissano il punteggio sul 74 a 69 dell'ultima sirena che fa esultare il pala sport extra che ha sostenuto la squadra Maranto per tutta la gara. Per la SBA una vittoria importante in vista di una serie di partite molto impegnative a partire dal turno infrasettimanale in programma mercoledì alle 21 ad Empoli contro un'use ferita dalla sconfitta patita sul campo del costone Siena. Quando si soffre si dice sempre che c'è anche più gioia. L'importante era vincere, c'è stato momenti di alti e bassi nella partita. Rispetto a Siena siamo stati un po' più concentrati perché abbiamo cercato subito di interrompere le moragie che abbiamo avuto. Sulla bomba del meno tre potevamo essere a tre minuti alla fine potevamo crollare. Invece la dimostrazione è che abbiamo una squadra con gli attributi che non molla mai e che fino alla fine gioca per vincere. Una partita sofferta perché comunque il nostro obiettivo era di tenere unito un ritmo alto e infatti tutta la partita è stata un correre su e giù e su e giù però alla fine siamo riusciti ad avere la meglio e abbiamo preso la prima vittoria.